ma voglio vedere se viene ora ora vai vai aspetta vado fuori magari però devi parlare un po e voglio vedere se si sente parla un po bene tutto bene come non mi senti mi senti ok ok allora praticamente ora sta andando su quello che sto registrando sulla radio voglio vedere se viene oppure se si interrompe capito si va bene non ci segue nessuno tanto vai allora io chiudo ora